Direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai, in Roma, questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Oggi, sabato 2 febbraio, il jackpot ha raggiunto la cifra di 99.684.686 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna. E con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 15. Inizia il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 52. Siamo al secondo numero, con Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 42. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 80. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 86. Adesso scopriamo il quinto numero, che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 37. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 88. Dopo i sei numeri che assegna il jackpot, passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero, insieme a cinque numeri della sestina vincente, potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly estratto di questa sera è il numero 45. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 52, 42, 80, 86, 37, 88. Numero jolly 45. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite superanalotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar estratto di questa sera è il numero 77. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 15 in ordine crescente. 37, 42, 52, 80, 86, 88. Numero jolly 45, numero superstar 77. L'estrazione di oggi, sabato 2 febbraio, termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 99 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 15. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del supernalotto assegna 403.864 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 99 milioni 600 mila euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di supernalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 100 milioni 800 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 73 mila 948 euro ciascuno. I 4 sono 543 e vincono 422 euro ciascuno. I 3 sono 20 mila 675 e vincono 33 euro ciascuno. I 2 sono 338 mila 75 e vincono 6 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 15 mila 901 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 4 e vincono 42 mila 286 euro ciascuno. I 3 stella sono 104 e vincono 3 mila 307 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.859 2 stella, 10 euro agli 12.118 1 stella, 5 euro ai 30.483 0 stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 5 febbraio. Giocheremo per un jackpot di 100 milioni 800 mila euro. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.